Non c'è molto che tu possa fare qui in giro, ma qualsiasi cosa tu faccia avrai sempre gli occhi addosso e non quelli di Dio. Padre, ho trovato la mia via. Ricarica! Vengono ogni notte, subito dopo il tramonto. E ci guardano fino all'alba, capisci? Di me contro te, lui e Sophie sono stati smascherati.